Ed essere me stesso sempre, con ogni mia zona d'ombra E poi zona d'ombra non è il nome del festival Linea d'ombra Linea d'ombra, quasi 8 minuti si collegheranno, ragazzi, per fare la prova Una è il premio corte Europa, il miglior cortometraggio E anche questa è, pure giurie esperti, passaggio d'Europa Quindi siamo sul punto di iniziare, mancano pochi minuti 3, 2, 1 Benvenuti a tutti, questa è Linea d'ombra, la serata conclusiva Questa è la serata conclusiva in cui attribuiremo i premi Linea d'ombra Questa è la 25esima edizione Ciao amici, sono il direttore dell'animato film, questa parte, l'altra parte Sono molto triste che non potrò attendere il festival Personalmente Per mettere insieme tutti questi film, ci sono più di cento Abbiamo avuto bisogno di una straordinaria equipe di collaboratori Siamo molto felici di ascoltare che il film è stato riconosciato con il prezzo Linea d'ombra questo anno Allora, motivazione per il premio a The Tour di Christopher Yates per la sezione Corte Europa E' un montaggio intelligente e una recitazione brillante Grazie a tutti quelli che hanno partecipato Il nome del contest è così lontano e così vicino In questo senso è intervenuto e inteso rivolgersi all'intera comunità di Unisa A cui è stato chiesto di raccontarsi con le immagini Io ringrazio veramente con il cuore Sara Serraiocco, la protagonista di Non Odiare Mauro Mancini, il regista Grazie davvero per testimoniare con la vostra presenza fisica quella che è una lotta silenziosa Che non vuole essere una lotta polemica ma che vuole essere una lotta di sopravvivenza Ciao a tutti i ragazzi di Linea d'ombra, è stato un piacere condividere questa bella esperienza con voi Un abbraccio e un bacio da Sara Ciao ragazzi, un saluto dal Mancio Dai La piglia ci ascolti? Ci senti? Sì sì Mio padre che era operaio di Tal Sider di Genova Quando poteva cercava di tenermi mansueto portandomi al cinema Presentiamo subito i nostri ospiti Gennaro Giudetti, Bianca Barone e in collegamento insieme a un gatto bellissimo il regista Daniele Cini È stato innanzitutto un lavoro che è durato tre anni anche perché è tutto autoprodotto quindi lo facevamo anche nei ritagli di tempo Siamo veramente felici di poter essere qui con Bob Angelini Mi sono iscritto sbagliando tutto a giurisprudenza già con l'idea forte, con l'ossessione di fare comunque il musicista Che questa notte nonostante tutto lui ritornerà Ehi, ehi, lasciami entrare Mi chiede per favore, ehi, dai, vieni c'è un cane Che confusione sarà perché ti amo Ero convinto che avrei fatto musica nella vita Se bruciasse la città Da te, da te, da te io correrei È l'ultimo giorno, è l'ultimo giorno, vedi la lacrimuccia Ed essere me stesso sempre Con ogni mia linea d'ombra E questa paura di ferirti Sono l'unico che con la maschera di Borat sembra il baffone dei ricchi e poveri Grazie